Derubava la moglie dell'uomo che stava assistendo. Una quarantenne originaria di Fano, ma residente a Cattolica, si sarebbe appropriata di oltre 130 mila euro di un'anziana, 75enne di Fano, affetta da gravi disturbi psichici. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Fano hanno consentito di accertare che la badante, facendo leva sulla ridotta capacità di intendere di volere della donna, dovuta a un chiaro stato di infermità, si è fatta consegnare in poco più di un anno l'ingente somma di denaro, in pratica tutti i risparmi di una vita. In particolare la badante, dopo essere stata assunta per assistere il marito della signora, anche egli gravemente malato, era riuscita a raggirare l'anziana, inducendola a donarle migliaia di euro, nel periodo compreso dal mese di marzo 2015 a giugno 2016, mediante centinaia di bonifici o prelevamenti. Per fortuna però, alla figlia della coppia sono sorti dei dubbi e, sporta la denuncia, sono partiti gli accertamenti delle fiamme gialle. I finanzieri hanno appurato che la truffatrice, oltretutto, incassava regolarmente anche gli stipendi dovuti per l'assistenza. Nonostante questo, utilizzava, senza alcuna autorizzazione, la carta di pagamento Bancomat intestata alla pensionata. Il denaro poi lo spendeva nel video slot, infatti, tentava la fortuna in una sala giochi in zona Sassonia. La badante, che secondo le prime investigazioni sarebbe nulla tenente, è stata denunciata e ora è indagata per i reati di circonvenzione di incapaci e utilizzo in debito del Bancomat.